ciao a tutti ragazzi oggi siamo in compagna di sopra e cuba salsero e vi mostreremo come indossare le adset da pilota su qualsiasi maschera di halloween innanzitutto venite qui in questo punto sulla mappa al muro del perro dopodiché tracciate la solita linea di benzina sparate e premete destra appena prenderete fuoco selezionate il completo con le adset da pilota come vedete adesso ho la maschera di halloween con le adset da pilota ho mostrato come prendere le adset nel video precedente quindi se il video vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi alla prossima ciao a tutti